Ci troviamo di nuovo in Romania, a Campoli, già da diversi giorni, ma questo villaggio ci ha già rubato il cuore e non smette di affascinarci. Un mix tra modernità e antichità, quiete e socialità. In questo momento nei nostri viaggi rappresenta un vero tocca sana. Il nostro stile di viaggio non ci consente di fermarci per lunghi periodi, ma qui è diverso. Le giornate passano quiete tra i boschi ad accogliere i funghi e serate tra i socievoli abitanti del villaggio, tra una festa di compagno, un matrimonio, una passeggiata. Sì, amore, quando torniamo qua? Sì, ci sono che mi sono ricordato. No, sono nuovi, forse non li ho usato per niente. No, è Cavalina. quelle cose rosse si mangiano, frutti sono un frutto molto buono, non da mangiare, si fa l'infuso la mia amica, mi ferma, mi vai piola, si lo prendeam, la mia amica la mia amica hai nota, unde esti, entri l'am oprit, dar nu m'aduceam pe jos, lasa ca asa ajunge imediat ajunge imediat, fai leut, prasutura mea grazie grazie hai galvez mori a venit tarziu? cine? a ajuns cam tarziu da la vaca? poate nu stiu, cat un milion sumate pe zutai, nu? sau cum? la masana? la masana 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 doi sa duca acas, nu? nu, nu uita mergi cu noi la buriect, nu ca alții la scoane nu, nu, nu andiamo nella cittadina più vicina ad acquistare una torta per un corano siamo a circa un'ora di strada dobbiamo scendere più giù cambiamo i soldi cambiamo i soldi che non c'era proprio quello che cambiava i soldi bello sa che quando troviamo parcheggi ci prendiamo ecco qua presa basta che non cade la torta forse è meglio che lo tengo io in braccio e chiedila dove vuoi basta che lo sbattilo un po e tira proprio i piedi forse la torta forse è meglio giù che lo sbattilo un po è giù Grazie a tutti 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 Stasera festeggiamo il compleanno Abbiamo anche ospiti che sono venuti con il carretto, con il cavallo Questi sono i funghi che abbiamo raccolto oggi I laktari deliziosi che facciamo arrostire sulla griglia Buonissimo Ecco i frutti di bosco che abbiamo raccolto ieri Stavo venendo qualche dubbio se sono buoni, comunque ho chiesto alla vicina Sono buoni, sono buoni, sono buoni, sono buoni, un pochettino aspri, sono molto buoni Siamo fermati a prendere dell'acqua, siamo sulla strada Ah, così sta in bilico Ah, così sta in bilico Un bastone, un bastone, è buon minuto, un bastone, un bastone stai, ahahahahaha Ma che bucone Tieni un po', ma non puoi... Non posso dire, non ne vuoi, non la bere sai? Non la bevo Guarda un fungo enorme qua! Il corcino gli uccida! Ah, e che fungo è? Eeeh! Vabbè, lascia! No, non toccare! E poi esce fumo! Lascia, lascia! Ah, quelle che scoppiano! Sì, sì, quelle che scoppiano! Vabbè, andiamocene dai! Qui sopra sta! No, fermati qua! Quindi praticamente qua vedo l'uva all'ingrosso Sì! Per fare il vino! Non c'è nella porta o nella cantina? No! Ho pure uva da tavola! Guarda qua! Non so se puoi entrare qua nella macchina! No, vabbè, ma non puoi neanche entrare! Ma secondo me è uva da tavola questa? No, amore! È uva da vino! Uva da fraia! Vino dici? Sì! Ah, ho capito! Va bene! Le persone tornano dalla chiesa! Chiesa o dal mercato? Lo vedo con la busta! Se sta a mercato me li ancora andiamo a vedere! Mercato c'è, vedi? Mercato, sì! E di qua prendiamo un uva! Questo che vende? Ah, limoni! Cose! Noi prendiamo un po' di uva! Noi prendiamo un po' di uva! Adesso, svoltare a destra! Vediamo se trova un parcheggio! Sempre a destra! Sì! E proprio per il parcheggio forse mi conveniva andare dritto! No? No? Vado di là? No! Forse è tutto pieno di noi! È tutto pieno! Non lo so! Vabbè, troviamo qui! No, è un posto, dai! Ah, lì dovevi! Guarda! Fra 250 metri svoltare a sinistra e poi svoltare a destra! Ah, sì! Ecco lì, era buono! Un posto! E mi posso mettere là? Sì! Lì ti puoi mettere! Lì è nella macchina adesso! Questa! Guarda, ti posso andare? Guarda! Sì! Io non lo sto vedendo! Vai vai vai! Non è che c'è il fosso? Il fosso c'è! Sto vedendo il fosso via! Il fosso c'è! Togato! Oh! Che saranno diverse, gente! Eh? Che saranno diverse! quelli cosi sono lì cosa sono? i fagiolini, prendiamo un filo così e come vuoi? così questi sono fagiolini e che ora è? è ora di mangiare? sì, e oggi va il quarto, ora mangiamo la città guarda qua i miei veri, qua alla festa ora mangiamo qua, andiamo a fare la spesa e poi veniamo a fare la città guarda qua, guarda qua! un po' di quella che in Italia non c'è quella è quella tipo finocchio? tipo finocchio, però c'è il diverso puoi prendere? eh? tipo prezzemolo ma non è prezzemolo quello? ma non è prezzemolo? coreano no vabbè dai ci sta un altro più verde no ci sta un altro più verde questo è un po' amosha dici che sta bene la macchina la vicina sta bene la macchina la poi la troviamo aspetta però andiamo quello lì a mangiare mici sai la prima questi sono sedani no? sedano quello lì a si 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 se si 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 perdoni quelli non sono pomodori ah perdoni per insalata insalata si si che sto facendo io qua? guarda che enormi sono, vedi? che belli, belli e quando mi scondo parli di italiano, erano tutti di italiano, andiamo da quella parte scartoffie, scartoffie, i peperoni quanto vanno qua? 5 lei, ma sono gialli quelli? sì, ma meglio quelli da 3 anguria, 2 euro, 2 euro al chilo? al chilo, sì lì c'è pure quello del miele, dopo lo andiamo a vedere guarda, questo prendi il piatto di uno, vedi? la prendi, la prendi? la prendi al ritorno? 4 euro questa è la chiesa? ah sì, la chiesa eh? andiamo a vedere se tu non entri che hai il bagaglio prendiamo un po' di candele così accendiamo pure noi qua sì sì, prendile, quello è il campanile, questo è quello? sì, il campanile e l'hanno messo a parte dici che posso registrare dentro? sì spero tu non entrai, poi ce l'ho qua, l'ingresso quello quanto serve? 4 lei vedi ci facciamo i spicci? sì, 4 lei oh ma che proprio bella eh? bella allora sono ecco 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 Grazie. No, non si sale, noi non possiamo di salire. No, ieri. Io sono in Doriano, sì, lei è rumena, le mia moglie, sì. No, non so, non so, non so. Che è questa? Lì, lì, lì. Lì, lì. Ma sul YouTube come stai? Crina e Nando? Nando e Crina. Abbiamo un nuovo iscritto. Abbiamo. Non so se abbiamo i cani da fare. Questo è il miele? Guarda, vai a vedere gli animali interi. Lì? No. Le pecore. No, no, non mi interessa, no, no. C'è la carne di pecora affumicata che usano per la ciorba. La ciorba sarebbe la zuppa. Prendiamo questa. Ma non c'è una. Non c'è una. Questa cosa è? Aspetta qua. Questi sono quei frutti di bosco che abbiamo preso l'altra volta, ti ricordi? Con il miele stanno? Sì, sì, con il miele stanno. 30 lei. 30 lei sarebbero... Non so se lo potevi portare tu per la mamma. Così, per la mamma. Questa è salute. Questa vuol dire salute, amore. Prendilo. Per la mamma. Sì, prendilo, che lo porto. Ma non c'è il timbro. No, ma cos'è? Non me lo controllo. Questo qua. Non me lo controllo, non penso. Perché è piccolo. La aeroporto, posso tracco questo da conare il timbro di bontari? No. No, no. No, è che piccolo. E per i bontari, per i soffri. Questa per la mamma. Prendiamo quello piccolo, tieni. La mia è inutile prima che hai il quanto ti ha smato. No. E questo cos'è? Non lo so, ci sono ci. Qual è? Poline, amore. Ah, poline. Poline, ma non lo so io che posso servire. Ma è forte burro. Ma è forte burro. Eh? Per ciò serve? E' forte burro. Ma è forte burro. Ah, si mangia così? No, ma èっていう cosa si mangia. E' questo, ma, è molto buono. La immunità è perfetta. E' immunità, ma è perfetta. E' immunità, ma è perfetto. Amo, sei, si vorrei di medicina, ma. Cosa vuoi di medicina? Da, da. Se vuoi di medicina, sì. Cosa vuoi di medicina? Ci vuoi di medicina? E' 15 lei. Un po' di 10 lei. Asta, a sta, stai, ma. Ma 10, 10 lei, non vrei? sempre per per la mamma mangi tu e la mamma questa sai poline io non l'ho mai visto allora dicevra alz che sarà no? e ho sotto cinza cinza ok questo lo vediamo questo è il procolis, l'antibiotico naturale ah ho capito, ho capito così va bene a posto grazie è bello assaggi pure tu diciamo ce lo dividiamo andiamo da quella parte e poi torniamo qua così vediamo se troviamo l'uomo il mercato pure lì eh infatti te l'ho detto che c'è il mercato da quella parte e che ce l'ho in italia io di queste sì ce l'abbiamo fatta a casa no? quella di quella quella grossa, quanto viene quella? la primaria ah non ce l'è prezzo quella di questa un pochino più grosso abbiamo noi a casa ma sei poi due di queste due di quelle di qui queste le ho fatte a mano no? sì a mano queste sono scarpe non ci andiamo da quella parte ma sempre le scarpe non c'è niente di particolare andiamo di là ma lì non è niente prendiamo un po' di pomodoro non ci andiamo quina che forma ha spazio di noci? costa parecchio o no? eh l'ho visto che costa ora hai quella formina no? l'ho visto che costa no? eh la formina costa più dell'altro quant'è la formina di noci? oggi li prendiamo un po' di patate prendi quello che vuoi un po' di pomodoro e un po' di peperoni eh li portiamo alla macchina allora? si apposta si già che andiamo lì quanto costa qua? 3 lei Ciccina 3 lei 2.50 guarda ah i pomodori io dice peperoni ah 3 lei 3 lei di 1 grammi di voi guardate di questi da Versace d'azza? ma questo ha più costo quanto pensa questo? 2 lei vieni vendita vieni vieni 4 km qu dawno c'è quanto venKA? 18 18 18 ore? quelli sono buoni a tre lea si si ma non sono buoni lui si fa un po' qui prendo un po' di prezzemolo e poi lui si fa è meglio di quattro che la sono un po' rovinato non ho nepponito un picco di acqua delicea che si è prea rovinato questa è stricata per le cose 5 euro 50 euro per 50 centesimi al chilo giusto? no 2 lei 2 lei si o lo vuoi tenere in mano? no ne lo portiamo alla macchina vediamo pure se sta bene la macchina si è rovinato pure no salate 10 kg 5 litri quant'è? quant'è? 14 14 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 è Questa è la scuola dove sono stata Andiamo a visitare il villaggio dove è nata Crina E dove c'è anche degli amici, dei parenti Le ragazzine sono molto belle Qua è il negozio Questo non ho costruito niente Qua è la casa dell'amica mia Aspetta, aspetta, aspetta Lì è quella casa mia Questa è la casa mia Questa? Questa dove c'è la scala Sì, dove sta la scala Andiamo di sopra E quella dello zio qual è? Questa E quella vecchia? Sì Guardate le carine Questa è la scala Questa è la scala E poi l'amico mio che è morto Questa è la? Quella che ho pianto io parecchio Questa è la Questa è la Questa è la No, andiamo sopra Qua c'è il cane che si può girare Sì, sì, è vero Allora, ho i figli adesso Ci saranno tanti cani che si... Eccolo Qua ce lo faccio passare Aspettiamo Dritto, dove c'è la ultima casa, no? Dove c'è la gallina? Eh, quella è la cassetta di cima No, 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 questa è di... Maialini in fuga Pure questi stanno scappando Visitiamo una fattoria E anche qui ci dicono che il clima è cambiato La sera non fa più Si scende più sotto zero Fa caldo, ci stanno 16, 17 gradi E i bozzi sono secchi Ho visto, ma c'è il pelo ai piedi questa Eh? Quella gallina c'è il pelo ai piedi Sì, sì E c'è il collo Così è lei, no? È proprio razza, no? Come si chiama quella razza? Non lo so Vedi? Questa è normale E quella pure Vedi? Quella è gallo Vuoi gallina? Sì, gallo Vedi? Eh? 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 Non l'ho mai vista così Vedi che è la gallina padovana Vedi la cassa di maiali? Sì, ma ho visto i maialini prima Vedi? E ce l'ho pure i maiali piccolini Sì, l'ho visto quelli piccolini Sì, l'ho visto quelli piccolini Uh! Qua c'è Guarda Vedi che ha fatto un casino qua Un più maiale Ehi Ehi Che bella Quella Quella E qua ci sono i piccolini Che li ha fatto lei Ah, il maiale è scrofa Fai vedere questi E lì avevo visto pure l'altro Vedi? Guarda che bella Ehi Vedi 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 Alza Eh? Eh? Ginelli tu, ginelli tu, ginelli tu, ginelli tu. Allo, allo, allo. Ginelli tu, ginelli tu, ginelli tu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501